Adesso ho fatto il stampo. Sì, 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 sì. E' meglio fare questi? Mi piace questo. C'era tanta differenza? Questa prima era molto. Prima era molto... Prima era molto... No, non è. Oh, siete là, insomma, non te la chiungi lì, eh? Io non voglio neanche altro qua. Come? No. 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 Non me lo puoi vivere anche in quel modo, questo è carcazzato. Guarda qua. Eh? Come? Eh? Grazie.